Hola! Come va? Andiamo a sistemare la bici! Il frattempo mi sono cambiato. Montiamo la catena e la puliamo. Noi non possiamo parlare adesso! Mi sto parlando con te! Prendiamo una chiave del quindici. Prendiamo il blucchetto. Oh, si! La laviamo. Ci siamo, ci siamo. Questo è come il pignone prima. Tutto arrugginito. Questo è l'altro tutto arrugginito. Un po' meno perché questo lo uso. Questo qua. E quell'altro che non uso, scatto libero. Già c'è una miglioria. Già c'è la miglioria. Oh! Prendiamo il raschetto. Sta qua. Il raschetto sta qua. Spazzo la dottone. Da, 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 da. Da, 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 da. Ingericate di un graffiale cucinissimo. Ecco qua come si presenta. Pulito! Com'è bello pulito! Ahah! Vediamo quest'altro. Ahah! L'ho finita! Nel mentre lo spazzolino si è rotto. Si è rotto, si è rotto. La catena e i pignoni li ho puliti con solvente nitro e petrolio bianco, però voi potreste usare anche sgrassatura universale. La catena è bella che è pulita. Pulita, pulita, pulita. Ok? Ok? Andiamo a mettere il lucchetto. Allora, la catenina. Basta semplicemente una pinza a papadallo. Qua nella nostra città si chiama Cagnetta. Serve soltanto a chiudere il lucchetto che dopo farò vedere. La maglia che entra, che aggancia le due estremità. Il coprimaglia che forma una maglia intera con queste due parti qui. Tac! E' un lucchetto che sarebbe un fermaglio che si va a bloccare. Si va a bloccare. Questo tutto si chiama lucchetto per catene. Se voi avete una catena per bici da corsa, bici con il cambio, altri tipi di catene, grosse, piccole, da un pollice a mezzo pollice. L'importante è che il senso di marcia della bici è questo. Noi dovremmo andare a mettere il lucchetto. Da qui è aperto, da qui c'è la pancia. Ho la pancia del lucchetto in direzione del senso di marcia della catena. In modo tale che non si va a incagliare dentro qualche... Ah, post! Prendiamo la catena. Prendiamo la quindici di prima. E' vero Bruno? E' vero Bruno? Andiamo a stringere un po' per non male la ruota di questa vetretta. Tac! Sì! E abbiamo struinda! E ora andiamo a fare il trucchetto per non sgonfiare mai più le ruote della vostra pc. Ora vedremo come rendere una camera d'aria imbucabile. Non si bucherà mai! 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 Una semplice camera d'aria da 2-3 euro. 2-3 euro! Invece qui 7, 8, 9 euro! Ehhh! 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 Semplicissima! Semplice! Ci serve! Una siringa acquistabile in farmacia. Abbastanza grossa. Questa è da 60 ml. 60 ml. Con un ago normale. 22 gouge. Che vuoi avere? La 22. Un ago! E' un ago! E' un ago! Sigillante e schiumoso. Per tubeless e pneumatici. Dice qui. Tubeless sarebbero i copertoni, diciamo. Copertoni senza camera d'aria. Quindi io però la camera d'aria ce l'ho. Va bene lo stesso. Dopo poi ci serve uno delle leve per togliere la gomma e far uscire la camera d'aria. Delle semplicissime leve. Io ho comprata la Decathlon della B-Twin. Si vendono tre. Si vendono tre. Upp! Upp! Tre. Ok. Andiamo ad aprire la bottiglia dell'aria. Prattice. E ne mettiamo dentro giusto 30 ml. Io però ne metto di meno perché già ce l'ho nella ruota. Giusto per farvi vedere. Ok. 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 Mettiamo l'ago. Quando fate questa operazione l'importante è andare a bucare la parte della camera d'aria che batte vicino al copertone. senza forare l'altro lato. Quindi entrare dentro e iniettare tutto qua il lattice. Tutto questo silicone liquido che vado ad iniettare rimarrà liquido finché non uscirà fuori e prenderà aria. E quindi andrà a riparare il foro. Ci vado a mettere un po' di lattice all'esterno. Ecco qua. In modo tale che ora chiudendo la ruota, chiudendo la ruota quella parte bucata andrà a battere vicino al copertone. e quindi creerà un motivo in più una toppa. Una toppa che mi andrà a chiudere il buco. Ci vediamo. Senza pizzicare la camera d'aria. Non qualche battuta per far aderire la camera d'aria. La confiamo a tre e andiamo a girare. La ruota è rimasta gonfia. È rimasta gonfia nonostante il buco. che si è andato a riparare da solo. Ho messo tre bar prima per avere ora due. Due bar. 20 PSI. Per questo. Quindi andiamo a mettere due. 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 Due cinque. E la ruota è qua. Una ruota. Tac. E gonfia. Chiudiamo il valvolino. Ciao. Ciao.